Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità sino alle 15.30 nell'area tra Piazza Bocca della Verità, Piazza Venezia, il Colosseo e il Circo Massimo. È in programma l'edizione numero 25 della Comer Race for the Cure, iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori del seno. Per quel che riguarda la viabilità sono previste chiusure al traffico e modifiche per 36 linee tra bus e tram. I dettagli su romamobilita.it. Le altre notizie, dalle 12.30 allo Stadio Olimpico si gioca Lazio-Empoli. Il trasporto pubblico per lo stadio è su romamobilita.it.